Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità tangenziale, lavori di riqualificazione della sopraelevata, prosegue la chiusura dell'uscita Casilina-Pigneto e da oggi è chiusa anche la rampa d'ingresso da via Prenestina. Metro A, conclusa la manutenzione delle scale mobili, è di nuovo aperta la stazione di Vittorio Emanuele. A proposito di fermate sempre della linea A, per interventi di riqualificazione dal 15 luglio sarà chiusa la stazione di Spagna, dal 22 luglio poi chiuderà la fermata di Ottaviano.